che trae origine dai miei studi che ho seguito durante il periodo di dottorato durante il quale appunto mi sono interfacciato con questa problematica che è quella della valutazione delle performance nel caso di ponti esistenti in calcestruzzo armato nel caso in cui essi presentino delle pile da ponte a sezione cava perché nonostante come riportato qui nell'introduzione questa sia una soluzione relativamente diffusa soprattutto in determinati casi perché fornisce dal punto di vista economico e tecnico una serie di vantaggi attualmente nessuna delle norme di riferimento tra quelle più adoperate considera degli aspetti particolari, delle peculiarità per quanto riguarda le formulazioni per quanto riguarda le modalità di valutazione delle performance e in particolar modo mi sono interessato di quello che è uno dei problemi più tenuti nel caso di valutazione delle performance sismiche di strutture esistenti che è quello delle rotture fragili, in particolar modo delle rotture a taglio che non sono molto diffuse però in alcuni casi si sono osservate nel post evento e sono rese particolarmente probabili dal fatto che nella maggior parte dei paesi il grosso delle strutture in particolare in Italia possono essere considerate come low standard structures nel senso che sono state costruite, ideate e progettate in un momento in cui la maturità dal punto di vista di normazione sismica era abbastanza obsoleta di conseguenza non c'erano tutti i canoni e tutte le prescrizioni attuali e quindi come dicevo non ci sono delle prescrizioni ad hoc per questa tipologia di elemento e gli ingegneri o comunque i professionisti che sono chiamati a svolgere una valutazione delle prestazioni sono in qualche modo, io ho utilizzato la parola forzati ad adottare delle formulazioni che sono riportate negli attuali riferimenti normativi calibrate e validate su sperimentazione di elementi a sezione ordinaria piena e da qui appunto la domanda che chiaramente non vuole essere presuntuosa ma è semplicemente un modo per fornire degli spunti delle riflessioni su questo argomento che posso definire ancora aperto appunto su fornire delle indicazioni al generico professionista che si appresta a fare una valutazione delle performance sismiche di un ponte esistente questo è il sommario della presentazione mi faccio notare esclusivamente che in ognuno dei punti che toccherò cioè sarà sempre un parallelismo tra queste due tipologie di forma la rettangolare e la circolare che sulla base di una serie di studi iniziali sono stati individuati come quelle più diffusi bene, innanzitutto sono stati scelti dei modelli di riferimento per la valutazione della resistenza a taglio seguendo alcuni criteri innanzitutto si è partiti dalla ricerca di modelli di taglio specificamente calibrati quando presenti sono stati considerati altrimenti comunque si sono seguite due strade la prima quella di considerare modelli relativamente semplici di facile applicazione anche da parte dei professionisti l'altra cercare quando possibile dei modelli che appunto potessero essere adoperati in fase di valutazione quindi che tenessero direttamente in conto il cosiddetto degrado della resistenza dovuto appunto all'azione ciclica e quindi in campo non lineare dovuto alla richiesta di utilità sono stati scelti in particolare per le HCSP che è l'acronimo di Holo Cross-Section Peers cioè pile a sezione cava in questo caso rettangolare il modello di Kowalski & Priestley cito giusto i riferimenti Biskinis e Sezio NML che sono tre dei modelli più adoperati e che sostanzialmente sono stati poi recepiti dalle principali normative che riporto nella parte inferiore della slide in particolare per quanto riguarda la normativa italiana cito la linea guida C7 2019 che suggerisce in realtà non prescrive ma suggerisce un modello che è figlio del modello A quindi di Kowalski & Priestley poi c'è uno dei documenti di riferimento per la valutazione e il retrofritting il rinforzo di ponti in America che è quello del Ministro dei Trasporti il documento FHWH RT 06032 che suggerisce ancora una volta una formulazione simile a quella del modello A l'Eurocodice 8 parte 3 che nonostante sia direttamente riferibile a edifici è attualmente considerato uno dei riferimenti nel caso di valutazione di fonti esistenti e infine che si fonda sul modello di Bischinis infine la normativa americana SSE 41 2017 che invece adotta il modello di SES NML nel caso delle circolari cavi abbiamo una situazione leggermente diversa in quanto in letteratura è presente qualche modello specifico in particolare è presente un solo modello che tenga conto del degrado di resistenza è quello di Ranzo e Prisley che in realtà è una piccola variazione del modello di Kowalski e Prisley con dei piccoli coefficienti cioè con dei coefficienti che hanno subito degli aggiustamenti che sono stati calibrati su solo due esperimenti test ciclici fatti su due elementi poi esistono in particolare altri due studi in letteratura specifici su questa problematica relativamente recenti che sono quelli di Jensen e Ndoang che sono dei danesi i quali però nella loro modellazione nella loro formulazione non tengono in conto del degrado ciclico e che quindi presentano un approccio per il quale in base al quale la resistenza a taglio è il minimo tra due modalità di crisi che sono funzione dello sforzo assiale di compressione e lo studio di Turmetal che si sono concentrati a capire l'efficacia dell'armatura trasversale sulla resistenza a taglio nel caso di sezioni circolari cave e quindi hanno tarato dei coefficienti che poi sono stati inseriti nel contributo dell'armatura all'interno della formulazione di Eurocodice 2 quindi comunque per la progettazione in questo caso per gli elementi a sessione circolare cava per quanto riguarda le normative abbiamo considerato le stesse sono state considerate le stesse normative del caso precedente per quanto riguarda i database sperimentali collezionati sia nel caso delle rettangolari che in quelle circolari la numerosità è relativamente bassa ciò è dovuto sia ad una diciamo scarsa attenzione verso questa tipologia di elemento dal punto di vista sperimentale sia al fatto che il grosso della sperimentazione su questo tipo di elementi è effettuata mirata alla progettazione quindi la maggior parte dei provini disponibili dei risultati disponibili in letteratura l'abbiamo dovuta scartare perché era relativa ad elementi con ad esempio calcestruzzi non ordinari quindi con resistenze molto elevate per i quali i modelli comunemente adoperati per valutare la resistenza a taglia non possono essere applicati e quindi all'interno del database abbiamo ritroviamo sono tutti diciamo test che hanno presentato una rottura a taglio in alcuni casi senza lo sdenervamento in altri casi post sdenervamento e in quest'ultimo caso faccio notare che è particolarmente critica la valutazione della duttilità in rispetto al quale vuoi valutare il degrado di resistenza e quindi ognuno dei modelli che abbiamo considerato è caratterizzato da una determinata modalità di calcolo di questa di questa duttilità ecco questo è l'analogo per le circolari quindi la situazione è anche relativamente peggiore con solo i 13 test che come detto rappresentano allo stato attuale lo stato dell'arte relativo a elementi a sessione cava rappresentativi ecco di strutture esistenti abbiamo proposto delle piccole modifiche o comunque delle modifiche ad esempio a partire dal modello di Kowalski & Priestley del 2000 nel caso delle rettangolari sulla base di alcune simulazioni studi sulla sezione trasversale e sulla base di alcune evidenze sperimentali è opportuno tenere il conto dell'area efficace a taglio e in questo caso posta pari in ambito sismico quindi ciclico pari a due volte lo spessore delle pareti delle anime moltiplicato per una lunghezza che è quella pari a 0.8 h dove h è la profondità della sezione nel caso delle circolari invece come detto esiste un modello specifico in letteratura ed è quello di Ranzo & Priestley basato su solo due test e gli autori stessi infatti nelle loro conclusioni affermano che ulteriori studi sono necessari relativamente a questi quattro aspetti che ho riportato in questa slide cioè l'efficacia dell'armatura trasversale del contributo del calcestruzzo in particolar modo poi del contributo dell'effetto di compressione e poi della legge di degrado o della resistenza ciascuno di questi aspetti è stato studiato e in particolare per quanto riguarda l'efficacia del rinforzo trasversale quindi dell'armatura trasversale differentemente a quanto in genere si fa per le sezioni circolari piene è stata assunta un'efficacia massima nel caso delle sezioni circolari cavie perché la motivazione è che nella parte trasversale quindi nella sezione dell'elemento la configurazione della staffa circolare segue e parallela al flusso delle tensioni tangenziali quindi non c'è da fare nessuna componente come nel caso delle sezioni piene e di conseguenza si può considerare che la staffa sia più efficace che nel caso delle sezioni piene circolari mentre per quanto riguarda l'asse dell'elemento quindi longitudinalmente se si adoperano delle staffe circolari e non delle spirali anche in questo caso abbiamo la massima efficacia perché la staffa agisce nello stesso piano del taglio per quanto riguarda l'efficacia del contributo del calcestruzzo attraverso delle equazioni a partire dalla torre elastica sostanzialmente si è visto che l'area efficace più adatta all'area colonna circolare e poi a circa 0,9 a concì ed è stato aggiornato quello che è il valore della resistenza a trazione del calcestruzzo seguendo l'approccio dell'ESI 314 del 2014 uno studio particolarmente è stato ampio è stato indirizzato verso l'efficacia del contributo del calcestruzzo del puntone compresso diagonale perché a differenza del caso degli elementi pieni dove il puntone è facile individuarlo nel caso degli elementi cavi il puntone dovrebbe svilupparsi lungo delle paretine sottili e quindi è ragionevole pensare che sia meno efficace di conseguenza sono stati tarati dei coefficienti di efficacia per quanto riguarda questo contributo e infine un'apposita legge di degrado ecco in questa slide nella parte superiore è riportata la formulazione iniziale nella parte inferiore la formulazione modificata in cui appunto compaiono i fattori di efficienza del puntone la compressione il centro di compressione opportunamente determinato quindi al posto dell'asse neutro classico il coefficiente che tenga conto dell'area efficace e dell'aggiornata resistenza a trazione nel calcestruzzo e infine se guardiamo nella slide superiore il contributo dell'armatura trasversale moltiplicato per prigaico quarti quindi è in qualche modo ridotto invece considerando la massima efficacia questo contributo cresce i risultati applicando chiaramente le formulazioni citate per ciascuno dei test sono stati riportati in questo diagramma le medie i coefficienti di variazione quindi gli histogrammi sono le medie i coefficienti di variazione sono riportati in grigetto e poi il minimo e il massimo valore predetti e in particolare si riferiscono tutti al rapporto tra il valore predetto e il valore sperimentale della resistenza a taglio quindi per quanto riguarda i modelli di letteratura questi sono caratterizzati da una previsione una capacità di predizione abbastanza la peggiore tra quelli considerati per quanto riguarda l'erocodice 8 abbiamo una sottostima considerevole in media e una variazione una variabilità abbastanza elevata per quanto riguarda la normativa italiana c'è una sovrastima di circa il 20% e ancora una volta una dispersione abbastanza elevata il modello proposto fornisce dei risultati discreti con una media pari a 1,05 una variazione relativamente contenuta pari a 0,16 per le circolari è stata fatta la stessa cosa e vediamo che il modello di Ransel-Prisley tende a sottostimare con una discreta variazione quello che è allarmante è il risultato relativo all'erocodice 8 che come prima dicevo spesso viene utilizzato quale riferimento in questi casi e abbiamo una sovrastima considerevole in alcuni casi la lineetta diciamo l'estremo superiore non è riportato perché è più del doppio in alcuni casi quello che viene previsto e un'alta dispersione la circolare italiana abbastanza sorprendentemente invece è caratterizzata da risultati discreti e allo stesso modo il modello proposto è stato soprattutto in grado di tagliare molto la dispersione nei risultati con una media vicino a 1 quindi in conclusione volendo delineare delle indicazioni per i professionisti appunto coinvolti nella valutazione sismica di punti esistenti possiamo dire che i modelli di letteratura almeno quelli considerati non forniscono delle predizioni attendibili i riferimenti di codici europei ed italiano non sono molto accurati e hanno degli errori di circa il 20-25% rispetto alla reale resistenza esibita la circolare italiana particolarmente fornisce delle stime non conservative il che è preoccupante il modello proposto generalmente risulta relativamente affidabile per quanto riguarda le circolari come detto il modello di Ranzo e Prisley tende a sottostimare con notevole dispersioni l'eurocodice invece c'è un allarmante sovrastima che è molto pericolosa con molta dispersione invece la formulazione suggerita dalla linea guida italiana è caratterizzata da notevoli capacità di predizione e infine il modello proposto fornisce i migliori risultati soprattutto in merito alla dispersione e nel prossimo futuro la nostra intenzione è proprio quella di cercare di applicare le metodologie del FIB Bulletin 80 in modo tale da fornire anche dei coefficienti per essere poi in grado di adoperare queste formulazioni eventualmente all'interno di contesti normativi grazie a tutti